L'intera nostra penisola è interessata da un campo di alta pressione supportato in quota da un promontorio di natura subtropicale il quale determina condizioni di stabilità con temperature che fanno registrare valori al di sopra della media del periodo. Tuttavia la nostra regione è interessata da estesa nuvolosità che si manifesta soprattutto al primo mattino e nelle ore notturne a causa della presenza di aria umida in quota. Il flusso perturbato delle correnti oceaniche si manterrà alto di latitudine interessando l'Europa centro-settentrionale mentre la depressione presente sulla penisola ellenica andrà colmandosi rapidamente. Dunque nei prossimi giorni sulla nostra penisola non avremo grossi cambiamenti a livello barico ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 14 maggio condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque con la presenza di nubi basse al primo mattino specie lungo la costa. Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà a dissolversi lasciando posto ad un ampio solleggiamento. Tuttavia nel corso del pomeriggio qualche addensamento potrebbe interessare le aree interne del napoletano e casertano dove non si esclude qualche breve ed isolato piovasco. Temperature in ulteriore lieve aumento, venti deboli a regime di brezza lungo la costa e mare quasi calmo. Domenica 15 persisteranno condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato ovunque a parte qualche addensamento pomeridiano lungo la dorsale appenninica. Temperature senza particolari variazioni con valori massimi intorno ai 25 gradi centigradi, venti deboli di direzione variabile e mare quasi calmo. Nei primi giorni della prossima settimana come possiamo apprezzare sulla cartina l'alta pressione subirà un ulteriore rinforzo espandendosi da prima verso la penisola iberica e piegando successivamente verso il mediterraneo centro orientale. L'apporto di aria calda dal nord Africa determinerà un ulteriore aumento delle temperature con valori che specie nella seconda parte della prossima settimana potrebbero sfiorare i 30 gradi centigradi segnatamente nelle aree interne. Dunque con oltre un mese di anticipo l'estate potrebbe presentare il suo biglietto da visita ma per maggiori dettagli come sempre invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo facebook meteo cilento. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.